Campionati interregionali, Vibo Valencia, Città Ripizzo, 2008, primo incontro di Davide Basile. Guest star della giornata, Fabio Baruffo che arbitra tutto pronto, l'arbitro dice salutatevi, spiega l'andamento dell'incontro, dice Davide Rissi, facendo, si capisce tutto, partiti. Vai Davide, buono, vai Davide, Davide è subito affrizzante, 1 a 0, 2 minuti e 45, buono, così. Vai Davide, vai Davide. Capite, è subito, reattivo, deve essere reattivo. Stop ai quadrati. Stop ai quadrati. Ci mettiamo accucciati per poter permettere una ripresa migliore. L'applicazione tecnica ed atti di Mr. Balestrino. Grizzly sta cercando di caricare il nostro Snake. sta per partire l'incontro. 2 a 2, 2 minuti e 17, immagina in breve. Allora, riparte. Buono, due punti, Davide e Basile continua così. 4 a 2, 2 minuti. 2 minuti, saltato, l'arbitro lo dà. L'arbitro lo vuole dare. 2 minuti, 2 punti. No, ha dato un punto. Montiglianziano, Chiracchi, Camerlino. Ok, da due punti. Tempo ha dato, ha messo un punto. No, no, ha messo un punto. Ha messo un punto. No, ne ha messo uno. Stava a quattro, ha fatto cinque. Deve stare a sei. Giustizia sarà fatta. Vediamo qui, presevole l'incontro. Vai Davide, vai! Vai Davide! Così! Mannaggia! Era palese questo punto. Dai, 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 dai. Vai! Così! Un incontro che è pieno di suspense. Attenzione. Attenzione Davide, attenzione. Non l'ha ricaricato, per questo non gli hanno dato i due punti. Buono Davide! Così, così! Vai, vai! Continua! non ha segnato il punto chissà per quale motivo 22 secondi 8-4 paresemente su Quantone ma ci ridanno lo scippo di prima 9-4 dai dai non vogliono assegnare questo benedetto punto gli arbitri parlano assegnano il punto all'avversario 2-1 0-0 9-5 Davide vince Davide Basile vince primo incontro saluto a mister Balestrino